Un saluto da dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia e Romania, sicuramente saprai prossimamente anche in Italia, infatti sto dando inizio alla selezione dei colleghi odontoiatri della prima clinica che aprirò in Italia, come sai io opero all'estero, opero in Europa, ho cliniche in Moldavia e anche in Romania e prossimamente aprirò un centro dedicato alla riabilitativa completa della bocca su una categoria di pazienti che non è adatta a curarsi all'estero, parlo di pazienti che devono eseguire terapie riabilitative miste, non hanno perduto tutti i denti, hanno molti denti che devono essere salvati e qui ho necessità di un centro che sia al centro dell'Europa dove possano convergere tutti quei piani di cura che hanno necessità appunto di terapie miste. Per fare questo occorre una squadra di eccellenti odontoiatri, endodonzisti specializzati nella cura conservativa che abbiano intenzione di intercettare quello che è il modo di lavorare del futuro, quindi lavorare col digitale, lavorare con la telemedicina, trasmissione dati, progetti digitali, esecuzione rapida di mockup nella bocca del paziente per poter validare o meno un progetto di ristrutturazione della nostra dentatura, di ricostruzione, il termine è corretto. Se tu vuoi far parte di quest'equipe, se sei interessato a lanciarti in quello che è il futuro, a fare un passo superiore nella tua professione e vorresti entrare a far parte della mia realtà, qua sotto puoi lasciare i tuoi contatti. Ad oggi la squadra che ho formato in Europa conta più di 250 colleghi dipendenti e colleghi, siamo già più di 40 odontoiatri che lavoriamo insieme, tutta l'azienda ha più di 257 persone, quindi parliamo di numeri importanti e siamo focalizzati nella ricostruttiva estrema della bocca, quindi Olon 6, Toronto, protesi Toronto su impianti convenzionali, impianti non convenzionali, zigomatici, ptericoidei, nasali e in questo momento mi trovo nella sede per esempio di Chisinau. Quest'equipe è un'equipe multidisciplinare dove ci sono diverse tipologie di colleghi che entrano nel progetto in tempi diversi e c'è una gran parte di pazienti che non può essere curata all'estero, che non sono adatti alle terapie all'estero. Per questi pazienti stiamo creando il primo centro in Italia che permetterà una risoluzione dei casi con colleghi altrettanto eccellenti come quelli che abbiamo raccolto attorno a noi questi anni. Se sei interessato lascia qua sotto i contatti, faremo un colloquio insieme dove avrai più dettagli e potrai capire se può essere una strada percorribile per il tuo futuro, quella dell'ingresso nelle mie cliniche oppure no. Un saluto!